A Ponte Cagnano-Faiano i carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno tratto in arresto il 28enne Roberto Siani ed è ferito in stato di libertà un 27enne entrambi di vitri sul mare e con a carico reati specifici sorpresi nella fragranza di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari impegnati in un servizio notturno risposto dalla compagnia di Battipaglia retta dal maggiore Eric Fasolino finalizzato al controllo del crimine del fuso ha notato i due uscire a piedi poco prima delle due da uno condominio situato nella località Faiano. I carabinieri li hanno fermati trovando in possesso di Siani una dose di cocaina ed una di marijuana, l'altro di due dosi di hashish. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire due pezzi di cocaina del peso complessivo di 100 grammi che il 28enne nascondeva negli slip. Espletate le formalità di rito, Roberto Siani è stato sottoposto agli arresti domiciliari verso la sua abitazione. Il 27enne invece è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Salerno.